segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te siamo già schierati voi utilizza voi sinistra se non vi offendete giornalista 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 utilizzate questa parola come una patacca che serve a demonizzare persone che non dicono sporco negro ma vengono comunque tacciate di fascismo hanno opinioni diverse dalle vostre semplicemente su come deve andare il mondo e la società e le accusate di essere che vogliono invece restaurare una dittatura manganellare le persone per strada o fare altro e questo ha reso ha fatto cambiare di segno anche la parola antifascismo visto che oggi non c'è un regime e io penso che tutti noi persino quelle persone lì che dicono quelle cose abominevoli sotto una dittatura starebbero male avrebbero paure non si sentirebbero il raggio quindi quindi